Le patologie neoplastiche hanno probabilmente colpito il nostro genere, la nostra specie, fin dalla sua comparsa sul globo e questo è dimostrato dai fossili. Tuttavia è difficile approfondire al massimo questo campo. La scienza che se ne occupa è appunto la paleopatologia. Sui fossili pensate che spesso mancano i tessuti molli, perciò è possibile soltanto analizzare le ossa e i denti e valutare eventuali tumori dei tessuti duri, più raramente dei tessuti molli, a meno che i tumori dei tessuti molli non lasciano delle brecce nell'osso, come per esempio gli emangiomi. I tumori ossei, soprattutto maligni, però sembra che furono rari appunto nel passato. Molte persone infatti morivano prima della quinta decada di vita, dove appunto i tumori avevano maggiore possibilità di manifestarsi, però se si moriva appunto prima ovviamente i tumori erano più rari e i tumori al polmone sembravano anche più rari nel passato per via di una minore abitudine tabagica e anche un minore inquinamento atmosferico. Un fossile di Homo erectus in Africa mostra un sarcoma della simfisi mentoniera della mandibola, e questo è il tumore ad oggi noto più antico nei rappresentanti del nostro genere, che è stato trovato appunto in Kenya. Anche sull'uomo di Brokenil è stata trovata una piccola lesione, forse post-mortem o forse tumorale di 8 mm, a livello del temporale sinistro. Alcuni tumori polmonari sono stati ritrovati sulle mummie egizie, o anche mielomi multipli, carcinumi nasofarencei, o anche osteomi. In un fossile di Neandertal dell'Eurasia invece è stato trovato un meningioma. In Eurasia sempre sono stati trovati alcuni fossili con osteocondromi ed anche emangiomi.